I fabbisogni nutrizionali di cani e gatti anziani sono per forza di cose diversi rispetto a quelli di animali più giovani e quando si parla di animali anziani l'alimentazione è uno dei fattori più importanti da tenere sotto controllo. Una dieta bilanciata, completa e appetibile aiuta a prolungare la vita degli animali, aiuta a mantenere o a migliorare il benessere e stimolare quegli apparati che proprio per l'età fanno più fatica a svolgere le loro funzioni. Ad esempio per i gatti il cibo deve contenere adeguati livelli di potassio e taurina, nei gatti anziani si devono evitare i prodotti che acidificano fortemente l'urina per proteggere i reni. Per questo insieme di fattori diversi prima di definire un regime alimentare è necessario basarsi sulle condizioni generali del cane o del gatto e sulla presenza di eventuali malattie. Regolare l'alimentazione con il passare degli anni è utile per mantenere una linea corretta nel cane e nel gatto senza che dimagrisca o prenda troppo peso. Infine le diete degli animali anziani devono essere definite tenendo conto anche della qualità e della digeribilità dei principi nutritivi. In ogni caso qualsiasi modifica dell'alimentazione deve essere introdotta gradualmente perché con l'avanzare dell'età rallenta anche la capacità di adattamento.